saicar un'azienda storica con sede in via rivarolo 33 a mappano di borgaro vi aspetta per scoprire le nuove occasioni nissan renault e dacia io sono raffaele ietrino do il benvenuto a tutti quanti voi che oramai da tanti anni vi accolgo qui nella mia sede storica di via rivarolo 33 a mappano di borgaro ci siamo arricchiti di due marchi nuovi marchi renault e dacia oltre a nissan che trattiamo oramai da più di 30 anni nella mia sede potrete scoprire e provare toccare con mano automobili in pronta consegna nuove di tutti e tre i marchi ma non solo questo perché saicar è un'azienda a 360 gradi che cosa vuol dire che voi potrete comprare la vostra automobile nuova qui da noi fare la manutenzione qui da noi e avere l'autovettura sostitutiva gratuita magazzino ricambi in sede e anche la carrozzeria quindi se dovete comprare una nissan una renault una dacia nuove venite in via rivarolo 33 alla saicar di borgaro perché le offerte sono veramente eccezionali e tutte le automobili sono in pronta consegna ma non abbiamo solo le automobili nuove perché perché abbiamo anche un grande parco di veicoli commerciali a vostra disposizione per me potete comprare il nissan cabstar potete comprare il veicolo commerciale renault master insomma un mondo di veicoli commerciali tutti quanti in pronta consegna nuovi e d'occasione e anche di questi siamo in grado di darvi la manutenzione quindi servizio assistenza compreso oltre a questo saicar è anche un mondo di veicoli d'occasione tutti quanti garantiti minimo 12 mesi tutti quanti finanziabili ma per questo voglio andare insieme a voi a scoprirli grandi le offerte sull'usato firmato saicar tutto garantito 12 mesi come potete vedere ne abbiamo veramente parecchie cominciamo con una bellissima alfa romeo mito distinctive dotata di pacchetto sport 135 cavalli pensate che quest'automobile alla saicar la pagate 7.900 euro vi chiediamo 218 euro al mese quindi un piccolissimo finanziamento e tre anni di furto incendio compresi in questa rata da 218 euro continuiamo ancora con una vettura gpl questa volta un appunto nell'allestimento lounge anche quest'auto costa veramente poco 7.500 euro ma pensate che le rate qua sono da 208 euro al mese e anche qui riesco a darvi una garanzia furto incendio per tre anni compresi sempre nella rata continuiamo ancora questa volta con il marchio ds3 cosa vuol dire una ecosport a 8.500 euro 229 euro al mese e la rata e in questa rata sono compresi tre anni di assicurazione furto incendio ma la saicar trovate anche le sangyong proposte a chilometri zero 1.6 turbodiesel pensate questa qui è una versione con la selleria in pelle i cerchi in lega i fari all'oxenon insomma un'automobile che nuova costa 25.000 euro solo alla saicar la pagate 20.200 euro chilometri zero opel insignia station wagon 2000 cdti l'allestimento cosmo con cambio automatico questa vettura costa 18.000 euro panda trekking natural power del 2013 un'automobile veramente molto giovane a 9.500 euro kia rio 1.2 benzina allestimento active full optional del 2015 24.000 chilometri quindi un'automobile nuova a 9.900 euro meraviglioso questo peugeot partner tp 1.6 turbodiesel del 2013 pensate a poco più di 50.000 chilometri a 11.500 euro ma in saicar troviamo anche le lancia questa volta una musa gpl a 7.500 euro con rate da 208 euro al mese e in questi 208 euro trovate anche compresi tre anni di furto incendio continuiamo ancora con un introvabile un fuoristrada kia sportage crd cambio automatico e navigatore satellitare pensate 17.000 euro e il suo prezzo venitelo a provare venitelo a vedere perché veramente un mezzo eccezionale tenuto molto 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 bene continuiamo ancora questa volta con il marchio nissan un'occasione introvabile una nissan not nell'allestimento tecna l'allestimento top di gamma del 2014 con 25.000 chilometri pensate che quest'automobile costa 11.500 euro le rate sono da 267 euro mese e sono compresi tre anni di assicurazione furto incendio in questa rata continuiamo ancora questa volta con un arreno clio 125 porte dell'anno 2010 full optional dai cerchi in lega al navigatore al climatizzatore pensate un prezzo veramente piccolo 5.900 euro sangyong corando gpl a 15.500 euro 32.000 chilometri eccolo qua in pronta consegna usato veramente poco ma tante tante chilometri zero firmate sangyong con 5 anni di garanzia le trovate qui sono lettivoli tutte in pronta consegna le trovate solo alla saicard a partire da 19.000 euro 5 anni di garanzia full optional e alla saicard trovate anche il sangyong rexton chilometri zero quindi un'automobile nuova un fuoristrada con cambio automatico pelle 4x4 full optional pensate costa 37.000 euro di ristino sapete quanto lo pagate alla saicard 28.900 euro chilometri zero alla saicard di via rivarolo 33 sono arrivate le nissan aziendali guardate che bello nissan khashqai 1500 dci e in connecta del 2016 15.000 chilometri a 23.500 euro e vi sfido a trovare un prezzo più basso abbiamo anche le nissan juke 1500 dci a 100 sempre del 2016 a 15.500 euro ma non solo abbiamo anche le utilitarie le piccole micra 1200 a 100 le trovate solo qui da me alla saicard di via rivarolo 33 a 9.500 euro tutte auto garantite io vi invito a venirle a vedere provare toccare con mano perché ci sono veramente poche le automobili che abbiamo viste sono una piccola selezione di tutto il parco disponibile alla saicard di via rivarolo 33 a mappano di borgaro vi ricordo le automobili nuove quindi nissan renault e dacia tutte in pronta consegna con dei prezzi delle offerte veramente sensazionali venitele a scoprire io vi aspetto numerosi in via rivarolo 33 a mappano di borgaro andate a vedere anche il mio sito internet che è www.saicard.it grazie a tutti quanti vi aspetto www.saicard.it grazie a tutti ính